Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Sia lodato Gesù Cristo Cari bambini Il sacerdote perdona solo i peccati a lui manifestati Perciò chi volontariamente, di proposito non si accusa anche di un solo peccato il sacerdote nella confessione non può rimettere nessun peccato per la semplice ragione che Dio non dà la sua grazia e la sua amicizia a un'anima che è suddita del demonio anche per un solo delitto e quindi sua nemica Ecco perché noi abbiamo l'obbligo di manifestare tutti i nostri peccati tutti i nostri peccati in particolare c'è l'obbligo di manifestare rendere chiaro i nostri peccati mortali cioè quelle offese gravi commesse contro il comandamento di Dio il preceto della Chiesa i nostri doveri di Stato peccati questi commessi con la piena avvertenza e deliberato consenso che cosa vuol dire? che chi commette un peccato mortale sa di fare una cosa molto brutta una cosa che offende Dio una cosa molto vergognosa di cui ha paura timore di di chi sia nota conosciuta dai suoi genitori dai suoi nonni dai suoi fratelli quindi qualcosa di barbaro di brutto che offende molto il Signore quindi chi fa un atto o anche un pensiero un pensiero perché si può peccare anche col pensiero col desiderio ovviamente non tutti i pensieri non tutti i desideri sono peccati mortali è necessario che la persona voglia quel pensiero se nella mia testa passa un brutto pensiero ma io non voglio sapere di quel pensiero io non ho peccato non ho peccato perché non voglio quel pensiero a volte vengono nella nostra testa e nel nostro orecchio le bestemmie che abbiamo sentito dalla bocca dei più grandi e senza volerlo questi queste parole eccheggiano nel nostro orecchio allora non vuol dire che anch'io ho peccato di bestemmia ma è una tentazione allora io devo dire Gesù non voglio questo Maria aiutami e quindi in questo caso io non ho peccato perché è solo un brutto pensiero una brutta parola che mi è venuta in mente ma che io rifiuto perché non voglio offendere il Signore quindi per ottenere il perdono di Dio abbiamo obbligo di manifestare al confessore tutti i nostri peccati mortali dicendo anche il numero quante volte ok anche la circostanza cioè voi sapete già che dare un schiaffo a un compagno vostro è è un peccato contro la carità e può essere anche anche un peccato mortale perché se c'è l'ira se c'è il disprezzo di offendere di malmenare il vostro compagno è una cosa grave ma fare la stessa cosa alla vostra mamma è più grave ancora perché c'è il quarto comandamento quindi quando vado a confessarmi non basta dire ho dato un schiaffo a una persona bisogna dire ho dato un schiaffo alla mia madre con intenzione di offenderla con intenzione di farle del male ok e quindi devo dire quante volte e anche la circostanza un'altra circostanza è per esempio rubare e voi potete capire rubare 100 euro è un peccato mortale se io ho rubato questo 100 euro a una persona povera oppure quindi è una persona povera e poi ho rubato 100 euro dalla borsa della mia madre o del mio padre oppure ho rubato questo 100 euro in chiesa nella borsa delle offerte allora è più grave ancora perché rubare in chiesa vedete che la stessa azione rubare può essere più grave meno grave dipende della circostanza è necessario dire anche il numero perché un conto è rubare una volta un altro conto è rubare dieci volte cento volte vuol dire che la mia volontà già si è abituata al peccato è entrato già un vizio nella la mia anima e allora devo confessare anche questo per ricevere la medicina la penitenza ma soprattutto il perdono di nostro Signore ma ma quando si tratta di del peccato veniale che sono le colpe che noi commettiamo tutti i giorni non c'è obbligo di dire tutte le volte padre mi sono ho perso la pazienza quante volte c'è bisogno di dire che ho perso la pazienza quante volte magari sono cento volte che ho perso la pazienza basta dire ho perso la pazienza molte volte ok molte volte ho ho mancato di carità verso il prossimo eh parecchie volte quattro volte una cosa del genere ok non c'è obbligo di dire con precisione quando si trattano di peccati veniali non c'è obbligo di dire con tutta la precisione basta dire in generale ma quando si trattano dei peccati mortali c'è obbligo di di specificare quante volte certo se una persona eh non si confessa da quarant'anni ok eh o da dieci anni e ha fatto tanti peccati forse è quasi sicuro che non si ricorderà di ogni peccato e quindi non saprà con precisione dire il numero dei suoi peccati allora deve fare una avere una idea generale dei suoi peccati in questi dieci anni io credo che avrei fatto questo tante tante volte per esempio ok allora ehm voglio eh per concludere darvi ancora qualche spunto per fare bene l'esame di coscienza allora la prima cosa è dire al confessore quando è stata l'ultima volta della vostra confessione padre mi sono confessato il mese scorso o lo scorso anno mi sono confessato mi sono confessato la settimana scorsa ok per esempio e poi ho fatto la penitenza che il confessore ne aveva imposto dopo importante hai fatto le tue preghiere al mattino o alla sera hai ascoltato la santa messa con devozione la messa della domenica soprattutto hai detto parole cattive senza rispetto contro Dio i santi hai imprecato o hai lavorato nei giorni festivi poi hai mancato di rispetto o di obbedienza verso i genitori i superiori o maestri hai studiato hai lavorato con diligenza oppure sei stato pigro se se sei addirato o litigato coi compagni coi fratelli o sorelle se hai menato la sorella il fratello se hai se hai perdonato e hai cercato la pace con tutti se hai parlato male degli altri o hai dato cattivo esempio se hai insegnato cose cattive agli altri se hai fatto discorsi che non si devono fare se hai fatto azioni sconvenienti da solo o con altri se sei stato insieme con compagni cattivi attenzione San Giovanni Bosco diceva che la maggior parte dei nostri peccati vengono dai cattivi compagni cattivo compagno è colui che dice parolace racconta cose brutte per far ridere quelle cose che io ho vergogna di poi di dire alla mia madre cattivo compagno è colui che prende in giro la religione Gesù Cristo che prende in giro il prossimo che prende in giro chi è buono questo è un cattivo compagno questo non mi porta alla virtù mi porta al male devo evitare i cattivi compagni di solito sono i più simpatici quelli che fanno ridere quelli che hanno intorno a sé tanta gente perché la gente voglia sentire queste cose qua quindi attenzione ai cattivi compagni e poi se hai letto libri cattivi se hai cantato canzonace hai cantato queste canzioni che non servono a niente se hai visto cose sconvenienti nel telefonino attenzione ai bambini non perdete il tempo e quel telefonino con questi giochi inutili che vi fanno solo del male è tempo perso voi avete un'anima così bella pulita non dovete sciuppare la vostra intelligenza la vostra memoria la vostra volontà con questa schiffezza di telefonino con playstation piuttosto leggete un libro andate a fare una passeggiata hai peccato anche peccato di gola peccato di gola soprattutto quando non volete mangiare quello che la mamma vi mette da mangiare questo è peccato di gola vuol dire che io voglio mangiare solo quello che piace a me hai preso qualcosa di nascosto a casa o fuori di casa hai preso hai rubato qualcosa e dopo aver rubato hai restituito quello che hai rubato o hai ritenuto per te hai detto bugie alla mamma a papà alla maestra alla sorella al fratello sei stato invidioso delle cose o delle persone hai osservato anche l'astinenza dalla carne prescritta dalla chiesa per esempio venerdì ogni venerdì un buon cattolico ha il dovere di astenersi dal mangiare di un po' di un po' di un po' di un po' Grazie a tutti.